Ciao a tutti amici di Pianeta Hobby e benvenuti nell'estrazione del concorso Tutto Social. Adesso andremo a estrarre il vincitore del concorso, grazie a tutti per aver partecipato e vediamo subito chi si aggiudicherà un box da 36 bustine di XY Evoluzioni. Questi sono tutti i ragazzi che hanno condiviso almeno una volta il video del concorso di XY Evoluzioni. Sono 37 ragazzi, eccoli qua, e adesso tramite un programma che si chiama Random.org andremo a estrarre uno di loro. Quindi su 37 andiamo a vedere chi sarà il vincitore. Andiamo a inserire dal numero 1 al numero 37 e andiamo a vedere chi vincerà. Generate numero 8, numero 8, numero 8, numero 8, Fabrizio Monteneri. Eccolo qui. Ok, andiamo subito ad annunciare il vincitore su Facebook. Andiamo su Facebook e scriviamo. Il vincitore del concorso è, incogliamo, Fabrizio Monteneri. Lo contatteremo al più presto. Il concorso si è concluso. Ancora congratulazioni e grazie a tutti per aver partecipato. Noi ci vediamo ai prossimi concorsi. Da Pienetabbi è tutto e al prossimo video. Ciao!